Guarda, davvero un dispiacere perché noi ce la stiamo mettendo davvero tutta a non mancare al mercato, però c'è pochissima gente oggi qui a Montecchio e questo mi dispiace perché non so il perché, ma la gente ha paura di uscire anche qui al mercato che siamo all'aperto e secondo me sarebbe ottimale venire a fare la spesa visto che i prodotti non li facciamo toccare alla gente, serviamo noi, non so, sempre peggio, sempre peggio e questo mi dispiace molto. Tu rappresenti il settore alimentare, comunque vediamo gente nei supermercati a volte anche affollarsi, quale può essere un po' la differenza di questo vuoto qua oggi? Eh ma infatti è proprio questo, non capisco il perché, anche perché nei centri commerciali la gente tocca tutto, sono vicini, non c'è distanza. Qui, tanto penso che adesso dalle riprese vedrete proprio voi che non c'è affollamento di gente, siamo ben distaccati un banco dall'altro, non lo so il perché, però c'è sempre meno gente. Il primo giovedì abbiamo lavorato perché non sapevano che non c'erano i banchi dei vestiti, poi quando hanno visto che non c'erano i banchi dei vestiti, sempre di meno la gente purtroppo. Dunque direi che è proprio una tistezza perché sotto Pasqua fare dei mercatini così, se poi penso che gli altri ambulanti dell'abbigliamento mancano completamente e anche per noi il lavoro è più che dimezzato. Dopo un anno non ce l'aspettavamo, aspettavamo di essere a posto, di essere tutto in regola col virus, invece qua la situazione è critica, i soldi non arriva niente, non si vede un centesimo. Non so come facciano gli ambulanti ad essere così bravi, a non protestare, a non farsi sentire, perché ci sono delle categorie, ad esempio anche i fieristi, che loro sono un anno che sono a casa senza fare niente. Vedo qua uova di Pasqua, cioccolata, colombe, entriamo nella settimana di Pasqua, come sta andando da questo punto di vista? Allora diciamo che si lavora col freno tirato, due anni fa, perché l'anno scorso abbiamo saltato completamente, in questo periodo lavoravamo di brutto, la gente veniva, comprava, poi gli piace alla gente andare al mercato, fare due chiacchiere, invece adesso qui la gente sembra che venga a rubare, vengono a prendere, furtivi, comprano un minuto, scappano, si guardano male, uno non può starduttire, non può tossire, è una situazione così, un po' critica, per neanche passi presto. La gente ce n'è, sì, forse il 25% che ci dovrebbe essere, la gente non gira, ha paura, è spaventata, anche se potrebbe venire da fuori comune, però non viene al mercato perché è un po' spaventata, un po' il fatto anche perché ci siamo solo noi, non creiamo proprio un vero mercato, perché la gente tanto viene anche per comprare le scarpe, viene per comprare i vestiti, una cosa e l'altra, noi si fanno fare i mercati, però la gente non gira, c'è poco, praticamente c'è poco introito, alla fine della giornata ci sono, cioè un mercato rispetto a un anno normale è meno della metà. La situazione è analoga su tutti i mercati, su tutti i mercati c'è sempre pochissima gente che gira perché è un po' spaventata per i contagi, un po' perché ha paura delle multe che può incorrere nello spostamento, perché non è ancora ben definita sta cosa, non è chiara la gente, purtroppo è così, lavorare ci fanno lavorare, però a lavorare così è come se, non so se conveniva a stare chiusi come anno scorso o meno, capito? Perché il grosso del nostro lavoro si svolge praticamente il 75% in primavera, se noi non vendiamo, io sono un produttore agricolo, sono un vivaio, se la gente non viene che non compra in questo arco di tempo qua, noi la merce ci va buttata via.